Oggi facciamo una ricetta specialissima che è della tradizione baiana, ovviamente rivista in chiave WEG. Allora, Rai, spiegaci tutto di cosa si tratta e come la farai. Con la zucca, perché la mocheca baiana è fatta con il pesce, giusto? E' il nostro, diciamo, il re della cucina, che è il latte di cocco e anche l'olio di dendè. Però facciamo una versione vegana. Speriamo che sia buonissima, perché a me la versione normale piaceva tantissimo, era il mio prato preferito. Adesso sono vegana, speriamo che mi possa consolare con questi sapori. Cosa serve? Allora, prima di dire cosa serve, scusatemi, non vi ho salutati a casa. Grazie dell'affetto per la prima puntata che è andata in onda. Siamo stati veramente pieni di complimenti. Quindi, grazie, grazie, grazie e vamos con la nostra ricetta.